Sono Mauro, un triatleta solidale ed applico il metodo dell'agonismo solidale. Ho un curioso primato mondiale. L'intera preparazione atletica di due anni per una gara di trinaton internazionale eseguita sotto forma di volontariato sportivo con persone disabili a me sconosciute che mi hanno fatto da mental coach e da motivatori per realizzare un sogno agonistico. Nuotare per 3,8 km quanto è lungo lo stretto di Messina. Pedalare 180 km quanto la distanza da Torino a Genova. E correre una maratona, questo in un solo giorno. Mauro Cenerazzo, più giri più vivi. Giro di Italia solidale, triatleta solidale, un grande uomo. Lo sport come strumento di inclusione, la disabilità come forza mentale, il motivatore come mental coach, il doping emotivo come naturale energia psicofisica. Questo è quello che nelle scuole pubbliche abbiamo insegnato nel 2021-2022 e che nel 2022-2023 ripeteremo Il libro avvia dalla zona di confort, lo racconta, il film agonismo solidale lo documenta. Le medaglie dell'Iron Man lo testimoniano.